In questa strada ha perso la vita la giovane Elenia di appena 29 anni. Durante l'alluvione del 2019 fu invece il pensionato Piergentino Tanganelli a perdere la vita. La strada di Ristradelle, che costeggia la statale 71 alle porte della città di Arezzo, rimane un'arteria dove le auto sfrecciano ad una pericolosa velocità. A raccogliere le firme per chiedere una soluzione all'amministrazione comunale era stato Alessandro Beatrice a nome di tutti i residenti. Adesso l'amministrazione comunale ha annunciato alcuni interventi, tra cui l'installazione di alcuni dossi. L'attenzione è molto alta perché come abbiamo visto anche in questi giorni, e sicuramente le situazioni arrivano anche da lontano, quel tratto di strada sicuramente è una delle più trafficate e trafficata in maniera disorganizzata perché i limiti di velocità non vengono rispettati e purtroppo anche la situazione del manto stradale non è delle migliori. Come amministrazione abbiamo messo in campo nel 2021 la manutenzione straordinaria di tutto il tratto che parte da Olmo e arriva fino a Madonna di Mezzastrada e appunto prevederà la manutenzione straordinaria, quindi il rifacimento sia dello strato di sottofondo ma anche dello stato di tappetino. Il tratto sono circa un chilometro e mezzo per un importo di 130 mila euro, quindi un importo oneroso per il comune chiaramente. Sotto il punto della sicurezza andremo una volta sistemato anche l'asfalto a limitare la velocità andando ad installare dei dossi rallentatori che praticamente verranno messi nella parte dove c'è anche il centro abitato.